Siamo a Termini Melesi nel cantiere del raddoppio della ferrovia. È stata scoperta un'immensa necropoli con tombe e con fosse comuni, centinaia di corpi e di tombe con inumazioni anche nelle giare. Un campo archeologico impressionante, largo decine di metri e lungo 200 metri. Qui si è svolta 2.500 anni fa una famosa battaglia, la battaglia di Mera, che ha visto contrapposti greci, siciliani e cartaginesi. Di fronte a noi, la città di Mera, sopra questo pianura, il monte San Calogero. Sopra questa collina, in pianura, c'era una città enorme fondata da Zanclen 2700 anni fa, la colonia di Zanclen, la Odiana Messina. Di fronte a noi le Madonie, l'autostrada Messina-Palermo-Messina che costeggia la ferrovia e il campo archeologico.